Ciao a tutti, oggi ho un permesso speciale per dare una comunicazione speciale. Il 19 maggio lo Stadio Franchi di Firenze, la nazionale cantanti gioca la partita del cuore con Emergency. Mi raccomando, cercate di comprare più biglietti possibili e di riempire lo stadio per stare vicini all'evento e supportare la causa. Il numero utile è il 45503. Io questa volta non ci sarò per impegni lavorativi, ma comunque vi sono vicino. Mi raccomando, 19 maggio, Stadio Franchi di Firenze, nazionale cantanti, partita del cuore con Emergency, numero utile 45503, da Moreno, incredibile, mi raccomando. Ghie!